Per la settimana sport sono in compagnia di Mr. Fiorito, allenatore della Corniglianesa, a cui chiedo un commento sulla sconfitta odierna in semifinale d'andata contro la panchina per 6-0. È stata la peggior prestazione della squadra all'inizio dell'anno, contro una squadra che è molto forte, ha giocato una grandissima partita, non c'è stata praticamente mai storia. Come preparerete il ritorno tra due settimane? Cercheremo di onorare la competizione cercando di provare a fare un'impresa, sicuramente se i gol sono tanti, ma confido comunque perlomeno in un riscatto d'orgoglio dei miei. Voi chiedo l'ultima, come è stato giocare in questo campo qua? Dal punto di vista estetico bellissimo, dal punto di vista sportivo direi da rivederci un attimo. Abbiamo visto sicuramente quali sono i nostri limiti, su cui dovremmo lavorare, ma è stata una bella esperienza. Grazie. 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 Grazie.